Il PM della procura di Bari, Isabella Ginefra, ha chiesto il rinvio a giudizio per le 18 persone coinvolte nell'inchiesta sulla presunta truffa ai danni dello Stato, perpetrata da tre note aziende baresi operanti nel settore turistico alberghiero e industriale. Tra i nomi di 18 indagati spiccano quelli di sei componenti della famiglia De Gennaro, amministratori delle società che avrebbero illecitamente percepito finanziamenti da parte dello Stato. L'inchiesta scattata nel 2008 avrebbe infatti accertato l'illecito finanziamento di 23 milioni di euro concesso in base alla legge 488 del 92 a quattro società baresi, tutte riconducibili al gruppo De Gennaro per la realizzazione di nuove strutture turistiche industriali e per la ristrutturazione di un centro medico sportivo nelle province di Bari, Taranto e Barletta-Andreatrani. Il denaro, secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinata dai PM Antonio Laudati e Isabella Ginefra, sarebbe stato ottenuto attraverso la presentazione di documentazione ideologicamente falsa attestante la disponibilità dei suoli e il rispetto dei vincoli edilizio urbanistici e di destinazione d'uso sui quali realizzare gli investimenti produttivi cofinanziati dallo Stato. Un anno fa l'inchiesta aveva portato al sequestro di circa 12 milioni di euro nei confronti della società Futura Bari, Castellaneta Domus, oggi operanti con il nome di Tecnodelta Costruzioni, e Immobiliare Paradiso, diventata Villaggio dei Turchesi SRL, riconducibili allo stesso gruppo imprenditoriale. Gli altri 12 indagati sono i legali rappresentanti delle società coinvolte. Per tutti l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato è falso ideologico.